Ciao, io sono Emanuela Petroni, noi facciamo parte della compagnia Anime di Carta in un giardino di cristallo. Potete trovare tutte le informazioni su di noi sul nostro sito www.animedicarta.net Siamo stati invitati qui in radio a Broadcast Italia, grazie al nostro bravissimo musicista Dejan e la parte reale che ci hanno reso un po' partecipi di questa bellissima trasmissione radiofonica. Noi ringraziamo la radio e tutti quelli che ci seguono. Ciao!